Io inviterei allora Patrizio Nocentini a illustrare i lavori del pomeriggio. Operativamente, voi penso tutti, se poi qualcuno non l'ha fatto lo deve fare, vi siete iscritti ai quattro gruppi di lavoro, alcuni l'avevano già fatto mandandoci le mail nei giorni scorsi. I gruppi si riuniscono negli spazi che ora dirò. Allora, il gruppo sull'istituto di vita, che è quello più numeroso, per ora sono registrate 27 iscrizioni, viene condotto da Luisella Marianelli, il rapporter, scusate ma è brutta fuori questa parola, suggerita da qualcuno, che è uno dei quattro direttori di zona, per quanto riguarda l'istituto di vita, è Aldo Babbanini, si riunisce nel piano di sopra, ripeto, il gruppo di lavoro sugli stili di vita e incidentalità. Il gruppo di lavoro su famiglie e minori, condotto da Gianna Nicaso con il direttore Fabrizio Boldrini, si riunisce nel piano di sopra, sono previsti per ora 13 iscritti. Il gruppo di lavoro sulla fragilità, disabilità, non autosufficienza, cronicità, integrazione sociosanitaria, che per ora ha 14 iscritti, che è condotto da me e Rosaria Fellegrini, con Maurizio Trifoglio, direttore del rapportè, si riunisce qui. E qui si riunisce in uno spazio attrezzato, non so immaginare come saranno, comunque ci saranno, gruppo del disagio, condotto da Fabio Falorni con Guido Morganti-Rapportè, che ha per ora 18 iscritti, anche questo si riunirà qui da basso. Il conduttore presenterà in un modello format uguale per tutti e quattro i gruppi, le prime due slide con i dati epidemiologici e qualcos'altro derivanti prevalentemente, ma non solo, dai profili di salute. In questo caso ho l'occasione per ringraziare Massimiliano Falorni, che fino alle ore del serale di ieri ha lavorato su questi dati ed è riuscito a concentrarli in due slide per ogni area tematica e vedrete che ci sono dei dati anche nuovi desunti da rapporti epidemiologici e statistici più recenti. Poi una slide sulle criticità che sono state evidenziate dai vari laboratori, una sulle priorità strategiche e l'altra sulle azioni buone prassi contenute nelle priorità strategiche presentate. E poi, come dicevo prima, due slide vuote saranno i gruppi a riempire, una con le valutazioni sul lavoro fatto e l'altra sulle linee guida, sul lavoro ancora da fare. I rapporter e il loro lavoro presenteranno queste due slide vuote riempite alla fine dei lavori del pomeriggio con Danilo Zuccherelli che poi commenterà e concluderà il tutto. Quindi, di nuovo, vi invito coloro che non l'avessero fatto di iscriversi ai gruppi. Troverete negli spazi i cartelli con l'intestazione. Grazie.